intervista moto per terra cosa mai successa in vita in vita del vito vito che non riesce a parlare dire un cazzo perché non c'è tempo e non ce la fa più tira 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 com'è senza fiato bella tosta come come e di qui dovrebbe arrivare il zio seve non si sa quando da questo sentierino qua prima o dopo arriverà basta rosa basta basta no 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 no